...per cui si può fare, si può fare, la soluzione è bella... ...non si ferma un secondo, la comunità è un senatore, scusi, un secondo... ...che vuole un governo con voi, il PD vuole un governo con il Movimento 5 Stelle... ...allora, in pratica noi vogliamo un governo Movimento 5 Stelle... ...e loro vogliono un governo, un PD Movimento 5 Stelle... ...è un po' pretenzioso la parola... ...un po' complicato... Quindi voi preferite tornare a votare? No, noi preferiamo un governo Movimento 5 Stelle... ...essendo difficile, preferite comunque andare a votare... ...piuttosto che scendere a qualunque altro compromesso, diciamo... ...ma in realtà i partiti politici hanno sempre avuto un governo... ...l'hanno sempre poi, come dire, deciso da soli... ...per cui non vedo il perché di tutto questo accadimento... Nel caso di un governo 5 Stelle chi sarebbe il vostro candidato Premier? No, in verità non ancora l'abbiamo deciso... ...però sicuramente io per esempio me lo immagino... ...dico e ripeto, non ancora abbiamo deciso... ...però io me lo immagino, quindi ovviamente quando facciamo... ...questa consultazione tra noi... ...io me lo immagino sempre scelto tra noi in rete... ...così me lo immagino... ...un 5 Stelle quindi... ...quindi sempre un membro del Movimento 5 Stelle... ...non una personalità al di fuori della politica... ...no, io personalmente me lo immagino al nostro interno... ...